44esima edizione della Borsa Internazionale del Tirismo, siamo presenti a Milano chiaramente per seguire questa tre giorni. Ieri c'è stato un primo importante appuntamento, un primo talk show del distretto turistico della Sicilia Occidentale che ha voluto offrire un'idea di turismo che passa ovviamente dalle certezze culinarie con il maestro Peppe Giuffre ma anche da sapori, odori e da quelle esperienze che è en plein air che arricchiscono la nostra possibilità di offerta turistica. La Presidente del distretto turistico della Sicilia Occidentale è già molto soddisfatta rispetto alla prima giornata di fiera, l'abbiamo ascoltata ai nostri microfoni. La Sicilia Occidentale è ancora una volta protagonista in questa edizione della BIT, nello splendido scenario dello stand della regione siciliana. Ieri abbiamo fatto un talk, più di un'ora di presentazione delle eccellenze, delle meraviglie del nostro territorio e l'abbiamo fatto raccontandolo attraverso un'esperienza immersiva, un'esperienza fatta di profumi, aromi, sapori particolari e tanta quindi natura e cultura. Quale opportunità turistica per chi vuole venire a conoscere questo territorio anche fuori stagione perché abbiamo cercato di trasferire quella sensazione di benessere e di piacevolezza che si vive in Sicilia Occidentale tutti i mesi dell'anno. Il pubblico ha apprezzato immensamente, il nostro talk è stato partecipato, interessato, il pubblico ha interagito, la stampa specializzata ci ha contattato, insomma è stata una grande vetrina, una grande opportunità non soltanto per il territorio ma anche per tutti i protagonisti istituzionali e imprenditoriali che in questo territorio credono.